Lola, 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 la cariola Allora, i prodotti che ho comprato sono ecosostenibili, cioè che siano positivi per l'ambiente Io ho comprato 7 prodotti da questo negozio che appunto vende questi tipi di prodotti E il totale del prezzo è 60 franchi, 70 centesimi Vivo in Svizzera, quindi magari da voi si può trovare probabilmente a un prezzo minore Allora, vorrei iniziare con queste spugne che sono fatte dal 100% di materiale reciclato dal PET Credo che quindi non voglia dire che siano biodegradabili per esempio Ma che però vengono fatte da materiale reciclato che comunque direi che non fa male Il prossimo sono due, sono due spazzolini fatti in legno E hanno una forza diversa, possiamo dire così Ce n'è uno medio, cioè per le setole che sono medio e uno più forte Apriamoli, vediamo come sono dentro Io ho presi due colori diversi perché l'idea è uno per me, uno per il mio rosso E quindi per riconoscerli Ne abbiamo uno di un azzurro chiaro, cioè di un azzurro blu chiaro Con le setole normali direi Sono ancora da provare quindi in caso poi se vi interessa vi faccio sapere come mi sono provata con tutti questi prodotti E poi ne abbiamo un altro, lo scuro, con le setole più dure Qua la forma è un po' diversa, se vedete Non so se è per la forma che aveva dentro la scatola o se davvero è quella che fa la differenza per essere forte e unico Comunque, sì, sono fatti in legno e hanno il colore e le setole più bianche Passiamo al prossimo prodotto Che sono questi, sono assorbenti lavabili Faccio vedere la marca E questo qua sotto indica per cosa sono Per esempio questo dice flusso abbondante Io ne avevo già comprati altri E questo per esempio, vedete, è flusso normale Sono assorbenti lavabili Che prima di usare lì bisogna lavarli almeno una volta E poi vanno semplicemente, prendo quello che ho già usato Vanno semplicemente a attaccarsi dietro come gli assorbenti con le lette normali Con lo scotch così Sono secondo me super fighi per il fatto che appunto le riutilizzate E quindi non andiamo ogni mese a buttare via plastica E secondo, anche per il costo Perché voi li comprate questi, sì, costano 20 franchi, 10 l'uno Però poi ce li avete, non è che dovete andare a fare altre spese Io mi sono trovata davvero bene con questi E questi qua li ho comprati per le notti Pensando appunto alle notti col flusso più abbondante E che non vado a svegliarmi a metanotte per cambiarlo So che esistono anche assorbenti biodegradabili Io purtroppo non li ho ancora trovati E quindi se voi lo sapete fatemi sapere dove si comprano Per magari situazioni dove non si vuole comprarne uno così Però appunto non si vuole usarne uno così Io mi trovo davvero bene con questi E poi l'altra cosa ovviamente che è molto più famosa sono le coppette Però a me interessava davvero questi strumenti lavabili Perché io ne sentivo parlare ma non ne trovavo mai Poi ho visto dei video su YouTube che magari vi linko qua sotto E li ho trovati anch'io vicino tra l'altro dove abito Quindi veramente, veramente figo come cosa Passiamo al prossimo prodotto E questo è molto più conosciuto L'ho già aperto Che sono le salvecchine per struccarsi Dentro il pacchetto che costa 7,90 Ne troviamo quattro E non so voi ma secondo me Se un giorno si può usare una parte qua Un altro giorno di qua Si può, no? Fa schifo, non lo so Vabbè Comunque secondo me la superficie è davvero grande Ed è figo perché puoi lavarli Vediamo se qua ci dice a quanto 100% cotone bio A 40 gradi o a 60 gradi Bene Figo Quindi non do neanche preoccuparci per la temperatura Questo ho visto che tantissimi makeup artists ce l'hanno E secondo me comunque ci sta davvero Perché sono quelle cose che secondo me non ti cambiano E con l'ultimo prodotto Con gli ultimi due prodotti Arriviamo al shampoo in saponetta Che ero super curiosa di provare Non ho ancora provato Quindi lo proverò E poi se vi interessa ve lo faccio sapere come è funzionato Costato 13 franchi E l'odore è buono Comunque non è male Assolutamente È da provare Mi hanno detto che in teoria non dovrebbe sgregiolarsi come tutte le saponette Quando sapete Ti lavi le mani e tutta la saponetta diventa in mille pezzi Però per sicurezza ho comprato questa retina Che si può mettere e inserire dentro Questa retina è costata 5,20 Però vabbè Ci sta E è da lavare al massimo a 30 gradi Sì E poi appunto si può inserire al suo interno Quando una volta usata E poi si lascia lì La seconda opzione di questa retina Per esempio se voi comprate Non lo shampoo per i capelli Ma quello per il corpo Potete proprio lasciare dentro saponette Puoi andare a farvi sia lo scrub che il sapone Quindi quello può essere anche una cosa figa Niente Qua magari metto di nuovo sotto Tutti i prodotti che ho comprato Le sorbenti Le salviettine per struccare I due spazzolini E le spugne Sono secondo me prodotti A parte gli assorbenti lavabili Dove magari uno dice Non voglio toccare il mio sangue Perché mi fa senso Anche se secondo me Anche quando ti metti gli assorbenti interni Anche gli altri può succedere Però ci sta Ognuno ha le sue scelte Ognuno ha le sue cose A parte questo Secondo me Questi sono tutti i prodotti Su cui Non penso che ti cambia la vita Se vai a usare Soprattutto delle spugne Riciclate Invece che le solite spugne A parte per il prezzo Ma quello sì E anche per gli spazzolini Allora I spazzolini sono cose 5,70 Però Se io ci penso Io sono una di quelle persone Che distrugge tanti spazzolini Che vado a buttare Non lo so Secondo me anche 12 all'anno Perché uno al mese sarà Se non di più Se lo vado a buttare in legno Secondo me ci sta Poi alle salviettine Anche queste Secondo me non cambiano Dalle altre Poi per esempio Io adesso Essendo che appunto Mi trucco solo gli occhi Alla fine C'è anche queste boccette Di struccante Ancora strapiene Penso che vado Semplicemente a usare quelle Penso che in realtà Si può usare anche Soltanto con l'acqua Sì Vabbè Ognuno poi dopo Stegge di su Perché saranno tutte diverse Però Secondo me ci sta di brutto E Quindi io andrò ancora A usare quel prodotto Che ho Finché finirà E E niente Quindi questa è un'altra cosa Che secondo me Non cambia troppo E poi lo shampoo È una cosa che secondo me Ci sta un sacco Perché se pensiamo Quante bottiglie Facciamo fuori Per i nostri Per i nostri Per i nostri saponi Per i nostri Per i nostri saponi Ci sta a cambiare In saponette E sono veramente Curiosa Quanto durano Perché secondo me Dure Vabbè Vi terrò aggiornati Se vi interessa Spero che questo video Vi è piaciuto E se è così Lasciate un like Iscrivetevi Non lo so Cerco di fare like Due E Se invece Saranno sempre mia sorella E gli amici A guardare il video Un bacione Vi voglio bene E alla prossima Bye bye Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti